Buongiorno a tutti, io sono allibito da quello che è successo io, se dovessi cercare di definirlo in poche parole direi che è scattata la guerra a un ospedale, la cosa non mi sorprende per certi aspetti, perché la logica della guerra è diversa dalla nostra, quella di ammazzare, di sopprimere le vite umane, capisco che in quella logica un ospedale sia qualcosa di un omolo, la cosa è un omolo perché è una struttura che cerca invece di salvare le vite umane, che si può sopprimere. Perché questa guerra all'ospedale di Amalogi si è? Potremmo anche dire che è una guerra preventiva, si vuole togliere di mezzo il testimone scomodo prima di lanciare un'ulteriore offensiva di bombardamenti su quelle regioni, il testimone scomodo per due motivi, intanto perché quell'ospedale ha curato da anni tutti i feriti di guerra, abbiamo fatto negli anni passati dall'apertura dell'ospedale quasi 60.000 diritti ambulatoriali e abbiamo avuto più di 10.000 ricoveri di feriti di guerra. Ed è un ospedale che ha curato i feriti in quanto persone bisognose di soccorso. Questo è esattamente in linea con tutte le convenzioni e i trattati internazionali che per anni, durante i lunghi anni della guerra afghana, sono stati di solito ricercati fino in tempi recenti. Ricordo che molti anni fa, quando ancora in Afghanistan c'era il regime di Najibullah, il regime tiro sovietico di Najibullah, medici infermieri, allora io ero a Kabul e lavoravo per la Croce Rosso Internazionale, medici infermieri potevano curare Mujahideen, che oggi chiameremmo ribelli, insurgents, come vengono chiamati, o terroristi, che venivano portati attraverso lì del fronte, curati a Kabul e riportati da dove provenivano dopo la cura. Oggi tutto questo non è possibile e oggi si è stato testimone. Il stato testimone ha denunciato anche il fatto che molti feriti dei bombardamenti hanno visto negato il diritto ad essere ricoverati in un ospedale, non si è permesso l'evacuazione dei feriti, non si è aperto nessun corridoio umanitario. Quello che preoccupa è che queste azioni, chiaramente contrarie al diritto internazionale, vengono oggi effettuate giornalmente dalle cosiddette forze della coalizione, delle quali il nostro Paese fa parte. Mi preoccupa ancora di più che forze afghane si possano permettere di rapire se non si tratta di arrestare. Un arresto è qualcosa che presuppone che ci sia una ragione, un mandato, presuppone che l'arrestato abbia diritto a un avvocato, che possa vederlo, che possa discutere, che possa portare avanti le sue ragioni. Poi ci sono semplicemente prelevamenti di persone nella peggiore tradizione terroristica esattamente. Queste cose vengono fatte da quel governo, il governo Carzai, che le forze della coalizione, tra cui l'Italia, sono lì a difendere. Quindi noi abbiamo, paradossalmente, forze italiane che proteggono e difendono il governo che arresta medici italiani. Il governo che si permette di dichiarare guerra a un ospedale che per anni ha curato le popolazioni di quelle zone. Forse questa è la chiave di lettura, che oggi è un testimone scomodo, allora conviene toglierlo di mezzo. Mi piacerebbe che il nostro Paese reagisse. Si tratta di medici e personale sanitario italiano, che erano alla scarga in missione di pace. Questa sì, una vera missione di pace. E spero che le autorità italiane faccero tutto il possibile. Credo anche che ci sia la necessità di un grosso sostegno da parte dei cittadini italiani. Proprio perché si tratta di una aggressione grottesca e ingiustificata, che non trova nessuna spiegazione razionale. Le accuse che sono state formulate, anche se sono molto imprecise, sono semplicemente grottesche. Lo stesso governatore che nel pomeriggio, quasi sera in Afghanistan, in una conferenza stampa dichiara che i nostri medici volevano organizzare un complotto per attentare la sua vita. Lo stesso governatore è quello che ha contattato da noi per telefono nella tarda mattinata, ha dichiarato di essere in viaggio e di non sapere assolutamente nulla di quello che stava succedendo. Quindi c'è dietro una regia, questa operazione. Quello che è certo è che c'è il coinvolgimento di forze internazionali. Quindi non è un'operazione puramente arcana. ora io credo che soltanto persone in malattie possano anche solo per un secondo pensare che i medici e i penieri decidono di passare anni della loro vita ad aiutare il popolo afghano a lavorare là con il segreto intento poi di far saltare il cretino di turno che è questo che è il regalatore. Non conta assolutamente nulla. E' chiaramente una grossa montatura. Nell'ospedale sono state trovate qualche pistola, qualche bomba a mano, anche se... scolpi la testa perché se l'ho trovato altro? No, no. No perché sono circolate anche voci che hanno trovato bazooka, sembrava che ancora un po' trovasse anche gli aerei invisibili nell'ospedale. Beh è chiaro che quando si mette in piedi una montatura così bisogna avere una qualche fase d'appoggio per cui certamente non escludo che nell'ospedale qualcuno abbia potuto introdurre quattro armi da far rinvenire al momento opportuno, ovviamente la perquisizione è avvenuta nel miglior stile in essenza del nostro personale. Avrebbero potuto dirci alla fine che avevano trovato indifferentemente cento quintali di eroina oppure dieci chili di patate. Non abbiamo la possibilità di verificare. Queste accuse sono chiaramente grottesche e sono una provocazione e un'affesa. La nostra priorità adesso è ovviamente la sicurezza del nostro personale che non si trova più in ospedale, il personale che è stato trattenuto, rapito dalla sicurezza gara e anche del personale che attualmente si trova nelle nostre case senza nessuna protezione. E questa ovviamente resta la nostra priorità. Per quanto riguarda l'ospedale, l'ospedale attualmente è occupato da militari, non sappiamo se militari solo afghani o anche stranieri che quindi è una struttura che non è più riconoscibile neanche come ospedale. Un ospedale non può essere controllato da militari. Questa è la situazione al momento attuale. Io vorrei ancora fare un invito ai tanti italiani che conoscono il lavoro di emergency e che lo sostengano a far sentire la propria voce. Non è pensabile che il personale umanitario italiano sia sottoposto a questo tipo di aggressione. Speriamo che questa crisi si possa risolvere presto.